c'è una bella atmosfera si sta si sta bene c'è una bella aria rilassata e soprattutto abbiamo due amici che possono trovarci diamo il nostro buongiorno ad antonio maggio e jessica notaro ciao ragazzi buongiorno buongiorno a tutti buongiorno allora è un periodo abbastanza momenti molto intensi no in giro da una parte all'altra di sanremo siamo un po sballottati in questo in questo momento guarda fossero tutte così belle le settimane almeno male che partiamo così allora la storia di antonio e di jessica è una storia di date anzitutto io la vorrei vedere così perché la storia di antonio nel 2013 una svolta era mi servirebbe sapere la canzone una canzone travolgente ritmata eravamo sanremo giovani la storia di jessica ha un inizio una grande passione per gli animali tu hai lavorato hai lavorato con i delfini quindi hai fatto un lavoro di passione di contatto con esseri delicati diversi da noi e poi una storia che ha una svolta nell'inizio del 2017 queste date le conosciamo il poi ci interessa adesso l'incontro tra voi due come è avvenuto quando è avvenuto l'incontro è avvenuto nella nel primo racconto che stavi facendo nel 2013 perché il singolo successivo mi serviva per sapere che fu anche il tempo può aspettare aveva un videoclip come tutte come tutti i singoli e la protagonista femminile del videoclip era una ragazza bellissima riminese che era jessica notaro da lì abbiamo coltivato questa amicizia cominciato e coltivato questa amicizia che è durata anni fino finché poi non non è successo quello che tutti sappiamo nel 2017 questo dramma che ha vissuto sulla propria sulla propria pelle sulla propria vita jessica qualche mese fa ci siamo ritrovati durante uno dei nostri incontri a guardarci in faccia e chiederci ma perché non mettiamo sotto forma canzone la tua storia che non è solo la tua ma anche quella di tantissime altre donne che ogni giorno subiscono qualsiasi tipo di violenza e da lì poi il passo è stato breve perché ho cominciato a scrivere questa canzone l'ho ultimata insieme a un altro mio caro amico che è erma al meta l'abbiamo prodotta in studio insieme e l'abbiamo fatta ascoltare subito a jessica che era a rimini l'ho chiamato ha detto cosa fai devi salire subito perché devi ascoltare una canzone che abbiamo scritto per te e poi quello che è successo sul palco dell'aristone ormai lo conosciamo tutti con questa con questa responsabilità enorme che abbiamo avuto nel lanciare un messaggio del genere da quel palco jessica la faccia il cuore parla proprio di metterci la faccia di fronte alle difficoltà della vita del non essere codardi e vigliacchi rispetto a parliamo soprattutto di chi con codardia con vigliaccheria pensa di prevaricare l'altro con la forza con la violenza sì esattamente beh questo in genere succede perché c'è un concetto di maschio alfa errato no nel senso che tutti hanno questa voglia di confermare riconfermare la propria leadership attraverso l'aggressività quando invece la leadership si riconferma proprio attraverso l'educazione e il rispetto verso il prossimo no e infatti la nostra canzone dice proprio questo tiene le mani in tasca che è indirizzato non solo a coloro che alzano le mani in senso fisico verso le donne ma anche ai leoni da tastiera che si prendono la briga di insultare persone sui social e purtroppo si respira molto quest'area di aggressività in generale in Italia e si vede che c'è una frustrazione pazzesca e noi non ci arrendiamo continuiamo a portare il nostro messaggio di speranza finora abbiamo capito che è stato recepito bene e speriamo di andare avanti così alla grande c'è una domanda che spesso mi faccio e magari anche voi dagli incontri che avete fatto avete avuto modo di tastare questa questa cosa secondo voi vivere in un mondo social in un mondo dove tutto a disposizione dove certi modelli poi si possono vedere con più facilità certe immagini certi contenuti ha aumentato questo fenomeno oppure ne parliamo di più di violenza perché vi è stato un risveglio una coscienza diversa in questi anni allora c'è sicuramente il famoso fenomeno dell'emulazione che è pericoloso però la violenza è sempre esistita e finché ognuno se la tiene in casa propria e non ne parla non si può migliorare invece è proprio parlandone che si esce dal tunnel e infatti quello che io suggerisco sempre alle donne vittime di violenza di parlarne il più possibile e cercare aiuto perché tendenzialmente sono presi da questo senso di vergogna e non riescono a lasciarsi aiutare invece è fondamentale perché questi manipolatori affettivi vanno smascherati l'unico modo per fermarli Antonio che cosa ti ha insegnato di più l'incontro con Jessica e l'amicizia con Jessica in questi anni Jessica è un esempio di forza un esempio di speranza io mi ritengo un privilegiato innanzitutto nell'essere suo amico e nell'avere la possibilità di confrontarmi su tante tematiche insomma e poi doppiamente privilegiato nel aver avuto la possibilità di trasformare questa amicizia anche in una collaborazione del genere che è una responsabilità enorme perché questa stessa canzone senza la presenza di Jessica non avrebbe la stessa forza perché parlare di un argomento così delicato da parte di chi non l'ha vissuto sulla propria pelle come potrei essere stato tranquillamente io da solo piuttosto che qualche altro mio collega non avrebbe mai avuto lo stesso impatto del cantarla insieme a lei che riesce a cogliere ogni sfumatura di ogni singola parola che cantiamo nella canzone la musica è forza la musica è voglia di comunicare agli altri è lanciare messaggi forti secondo te che cosa può insegnare questa canzone un ragazzo che oggi l'ascolta un ragazzo di 16 anni che ascolta sulla sua playlist personale questa canzone che fondamentalmente le cose nella vita non si risolvono con la violenza la violenza è la strada più veloce più più facile sicuramente più istintiva ma che poi diventa nociva per entrambi sia per la vittima che per la persona maltrattante e ovviamente il tema è sempre più sentito quindi nessuno può sperare di far del male sperando poi di avercela vinta allora eh tanti vi auguriamo naturalmente di continuare a collaborare in futuro di portare avanti questo progetto di fare anche eh tante altre belle cose in conclusione in dieci secondi eh Jessica descrivi Antonio con un aggettivo allora ehm sensibile sensibile no non me ne basta uno ne devo usare almeno tre vai allora sensibile bello e capace quella Antonio l'uomo da sposare Antonio tocca a te Jessica invece è unica forte e bellissima e dopo questo stasera dormo serena grazie ragazzi ho fatto il pieno di complimenti e poi scusami fammi aggiungere che non è un aggettivo ma va bene lo stesso è una cantante incredibile e l'ha dimostrato sul palco alla faccia di tutta la nostra categoria perché veramente è stata una forza della natura su quel palco allora mi piace quest'atmosfera che abbiamo respirato in questi minuti grazie davvero Antonio Maggio Jessica Notaro grazie a tutti